Tutto pronto, partite! Davanti ci va Zampa di Melluto, almeno ci si ritrova Zampa di Melluto che incontra l'opposizione esterna di Zadina, la quale si guarda alle spalle perché non c'è una grossa andatura, e allora in terza posizione Tropicana Jasmine che precede proprio la favorita Sunset Key, e poi a chiudere il quadro la coppia formata Sacred Sharf che precede poi Affari Spenti, gruppo ben raccolto e andatura non trascendentale, tanto che alla fine Zadina si ritrova davanti a fare un'andatura che non si aspettava di dover fare. Seconda posizione c'è a Zampa di Melluto, poi in terza Tropicana Jasmine, l'Outsider con la giubba rossa che precede quella bianca e blu di Sunset Key, poi Sacred Sharf e Affari Spenti che chiudono il gruppo. Siamo praticamente all'attacco della curva con Zadina in vantaggio, schema che non varia, dunque Zampa di Melluto ad inseguire, poi Tropicana Jasmine, la favorita che galoppa in quarta posizione in seconda corsia, poi Sacred Sharf e Affari Spenti a chiudere ancora il gruppo. Tre quarti della piegata con Zadina in vantaggio nei confronti di Zampa di Melluto che comincia la sua progressione, poi Tropicana Jasmine, percorsia interna e Sunset Key che si prepara, all'esterno c'è anche Sacred Sharf che segue la scia proprio dalla favorita, poi Affari Spenti che si avvicina ma percorsia interna, intersezioni delle piste, passate con Zadina che ha imprinto una brusca accelerazione alla corsa, Zampa di Melluto che tenta il recupero, poi ancora Tropicana Jasmine, Sunset Key, Sacred Sharf a Affari Spenti, ma in questo momento Zadina in vantaggio e sta accumulando lunghezze, sono almeno quattro, prova l'inseguimento adesso, Sunset Key che è la favorita, poi ancora Zampa di Melluto ma Zadina deve controllare perché siamo a 200 al palo, le altre da dietro che non rinvengono, Zadina in vantaggio, preme sull'acceleratore, allunga facilmente e lo fa nei confronti di Sunset Key e Sacred Sharf che lottano solo per le piazze, ma c'è il canter di Zadina da commentare, che vince nei confronti di Sunset Key e poi ancora Sacred Sharf. L'ha tre anni che batte le anziane, Antonio Fresu che prende di infilata le avversarie, entra indirittura e accumula vantaggio, il training è quello del team botti, i colori sono quelli della D'Oscuri, la quota al tot è di 3,12, due al primo posto, uno al secondo, quattro al terzo, è tutto per la prima. Grazie. Grazie.